Per la maratona e la maratonina complessivamente si contano già 3.350 iscritti e altri si aggiungeranno entro le 19. Sono invece ormai agli sgoccioli i posti disponibili per la bavisela non competitiva che da quest'anno si chiama Femili e avrà al massimo 7.500 partecipanti. Tra questi numerose associazioni dai donatori di sangue alla Sissa, alle case di riposo Itis e Ieralla, al gruppo con le magliette per i diritti civili che correranno contro l'omofobia e per una società e più in particolare per un comune che includa tutti i tipi di famiglie.